Si partirà subito con le assunzioni, domani ci è stato annunciato dal commissario nell'incontro avuto ieri con l'area emergenza ed urgenza, metteranno in dotazione organica con un contratto a tempo indeterminato tutti questi medici che hanno già maturato il requisito necessario attraverso le graduatorie pubbliche, si procederà di conseguenza con l'estabilizzazione dei precari che ci sono sempre in queste aree e via via si metteranno in campo tutti quegli strumenti per arrivare a completare la dotazione organica con tutto il personale che ne ha di bisogno. Questo significa dare serenità agli operatori, significa dare anche un servizio un po' migliore rispetto a quanto oggi i cittadini di questa provincia hanno avuto. Ci è stato promesso che ci sarà anche il potenziamento della medicina al territorio perché non ci potranno essere mai medici a sufficienza al pronto soccorso se noi continuiamo a intasarli. Quella riforma diceva la sanità a casa del cittadino, la salute a casa del cittadino. Potenziare il territorio significa decongestionare anche i pronti soccorso, liberare di questa incompensa quei bravi professionisti che operano con pazienza, con amore in questa professione.